All'uscita di un locale aggrediscono un uomo e lo rapinano del portafoglio. I carabinieri della stazione di Gravellona Tocci hanno denunciato due pluri pregiudicati residenti nel Piacentino per rapina aggravata in concorso. Le indagini dei carabinieri sono iniziate con la denuncia asporta dalla vittima residente nel Cusio la mattina del 9 novembre scorso. Il 38enne raccontato ai militari che a tarda notte, dopo essere uscito da un locale notturno di Gravellona ed essersi incamminato a piedi in direzione della propria residenza era stato aggredito da dietro con un violento spintone e una volta caduto a terra, mentre un individuo lo teneva bloccato al suolo, un altro gli sfilava il portafoglio fuggendo immediatamente nelle strade buie vicine senza che la vittima potesse rendersi conto di chi lo aveva aggredito. I giorni successivi i carabinieri acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina hanno notato che nei pressi del luogo in cui è avvenuta la rapina, prima il passaggio della vittima seguito dai due individui che, dopo pochi istanti, sono ripassati in direzione opposta con passo accelerato, come se stessero scappando. È stato acquisito lo storico dei pagamenti effettuati con carte di credito nel locale anche per ricostruire e cristallizzare i movimenti della vittima la sera dell'aggressione. È a questo punto che è emerso un primo elemento fondamentale, ovvero la presenza nel locale di un cliente non abituale residente nel Piacentino che era in compagnia di un amico che in orario successivo alla rapina aveva effettuato diversi pagamenti, cinque in tutto, con una carta che corrispondeva a quella utilizzata dalla vittima quando si trovava ancora all'interno del locale. Analizzato il nome di questo soggetto, un ventenne è emerso il suo chiaro profilo criminale. Non solo la mattina del 9 novembre, qualche ora dopo i fatti, il pregiudicato era stato coinvolto in un grave incidente stradale autonomo a Pettenasco. I carabinieri di Arona, intervenuti sul posto, avevano denunciato il pregiudicato per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, lesioni personali gravissime perché la persona che era in sua compagnia, un altro pregiudicato 26enne residente come lui in provincia di Piacenza e che aveva passato la serata insieme aveva riportato ferite molto serie. Acquisite le foto segnaletiche dei due pregiudicati, questi venivano riconosciuti dai dipendenti del locale notturno come quelli che avevano effettuato i cinque pagamenti con la carta di credito risultata di proprietà del rapinato. In particolare avevano effettuato i pagamenti con importi di 50 euro in modo da poter passare la carta senza inserire il PIN. Una volta usciti del locale, dopo le tre, si erano disfatti della carta, poi ritrovata a terra poco distante ed erano partiti con il veicolo del più giovane dei due per poi rimanere coinvolti nel grave incidente stradale.